... Giadosai dell'Associazione Terra Mater di Cicala, siamo qui nella sua città per questa manifestazione organizzata dal Proloco di Gimigliano, il concorso Penna e Calamaio. Salve, noi siamo l'Associazione Terra Mater di Cicala, abbiamo aderito per il primo anno al progetto Penna e Calamaio, abbiamo raccolto questo invito da parte della Proloco di Gimigliano con grande entusiasmo e siamo contenti che il progetto sia stato realizzato nella scuola dei ragazzi con grande entusiasmo e sicuramente anche con tanta coscienza. Ci auguriamo che negli anni possa continuare questa collaborazione nelle scuole, soprattutto per i messaggi che vengono indirizzati, come ad esempio l'importanza del volontariato, ma anche altre tematiche che sono state trattate nei temi, come ad esempio il problema dell'inquinamento ambientale o anche tematiche attuali come la guerra o anche la pace. Quindi ci auguriamo che questo progetto possa continuare negli anni. OrATE OrATE